Piaccia o non piaccia, il centrodestra ha preso come coalizione il 37%, noi abbiamo preso da soli il 32%, per cui per me, fermo restando che non mi piace quella coalizione, non lo devo dire, l'ho già detto ampiamente quello che penso, non di Berlusconi ma addirittura del berlusconismo che per me è un fenomeno addirittura peggiore di Berlusconi. Ma si è parlato fino a quel male assoluto, l'hai detto 48 ore fa, se ne è parlato. Non sarebbe altro perché ha contaminato la morale comune di questo paese, insegnando al cittadino ad essere furbo più che ad essere bravo e ha contaminato la politica, la finanza, l'economia, la pubblica amministrazione, lo sport, questo è Berlusconi, anzi questo è il berlusconismo, ciò nonostante... Però Salvini ci si è alleato. Ciò nonostante secondo me democraticamente è giusto che una presidenza di una delle due camera appunto spetti, quindi spettasse, ha un candidato, ha un nome fatto dal centrodestra.